Un voucher da 500 euro per famiglie a basso reddito residenti in comuni lontani dalle grandi aree urbane da spendere sui canoni di abbonamento a servizi di connettività internet e per la fornitura di personal computer o tablet. È quanto prevede la fase 1 del piano voucher banda ultralarga messo in atto dal governo nazionale che ha preso il via lunedì 9 novembre e che per la Toscana riguarda molte famiglie di ben 135 comuni. Nelle scorse settimane il gruppo In Fratel Italia, su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, ha sviluppato un'intensa interlocuzione con gli operatori telefonici per coordinare l'avvio della misura. È una misura messa in campo dal governo con 5 milioni di euro a disposizione per sostenere la possibilità di connettività dei cittadini di aree montane o disagiate, che in termini commerciali vengono definite aree bianche dagli operatori del settore e che invece hanno lo stesso diritto ed esigenza di comunicazione delle grandi città, afferma l'assessore regionale alle infrastrutture digitali Stefano Cioffo. Il contributo è riservato a famiglie con ISE inferiore a 20 mila euro, se residenti nei comuni delle aree suddette, che in Toscana sono 135. Ed oggi che lo smart working e la didattica a distanza stanno diventando un obbligo per contenere il virus, risulta ancora più importante velocizzare questo processo. Per questo rilancia l'assessore che il nostro impegno sarà costante, sia nell'interlocuzione con il governo che nei confronti degli operatori. Con questa misura la Regione Toscana ha chiesto di intervenire con maggiore riguardo verso le periferie, sia territoriali che sociali. I comuni, nello specifico delle province di Arezzo e Firenze, nei quali si può far domanda, sono i seguenti. Nella città metropolitana di Firenze, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Di Comano, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontastieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Godenzo, Scarperie San Pietro, Vicchio. Provincia di Arezzo, Anghiari, Badia Tedalda, Bibbiena, Caprese Michelangelo, Castelfocognano, Castel San Nicolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Loro Ciuffenna, Montemignaio, Monterchi, Ortignano Raggiolo, Pieve Santo Stefano, Poppi, Prato Vecchio Stia, San Sepolcro, Sestino e Talla.